Prima di iniziare con l'esterno e partirei da te Manuel, che dici? Certo, volentieri. Eh? Tanto il dente e via il dolore. No, in generale, per non... C'eravamo lasciati con te che dicevi non sono adeguato a stare su questa sedia, no? Ogni giorno che passava la convinzione è sempre quella. A oggi sono sicuro. Non sono la persona adatta, come ho detto l'altra volta. Devo fare dei conti con dei miei limiti personali e voglio trovare la serenità al di fuori, con le persone che mi vogliono bene nella quotidianità, con il mio lavoro. Qua dentro, Maria, ho proprio l'angoscia. È una cosa brutta da dire, ma non mi sento di avere una sconfitta personale, anche perché con il mio carattere e tutto quanto non avrei mai pensato di riuscire a tenere botta qualche mese. Me ne vado a casa contento. Spero di non aver deluso voi, perché quello ci tengo... Non ti devi preoccupare di questo, assolutamente, Manuel. Mi mancherà sicuramente tutte le persone che lavorano in questo programma, perché sono veramente eccezionali. E se tutti quelli che passano di qua dicono la stessa cosa è perché veramente è uno staff eccezionale. Sono persone che porterò, spero, avanti e se vorrai verrò a trovarli spesso e volentieri, però fuori dallo studio, non qua. Chiedo scusa alle ragazze che sono per me, qua. Grazie.